Ciao a tutti, grazie per l'attenzione. Sono Nero Alessandri, sono fondatore e CEO di Tecnogym, ho fondato Tecnogym 40 anni fa, ho combinato Tecno come Technology e Gym come Ginnastica e ho combinato in Tecnogym il brand che è oggi leader nel mondo, nel settore professionale del Gym Tech. Noi siamo una tech company perché abbiamo sempre introdotto attraverso l'innovazione a 360 gradi da quando la Tecnogym è nata 40 anni fa in un piccolo garage familiare della famiglia Alessandri e oggi siamo una società che ha un ecosistema consolidato da molti anni. Noi siamo presenti in tutti i vari settori, dal settore riabilitazione e health al settore fitness e sport, siamo fornitori ufficiali di otto olimpiadi, tra poco saremo anche per fornitori ufficiali di Parigi 20-24 e i campioni di tutto il mondo si allenano con Tecnogym da più di 30 anni. Abbiamo un'esperienza molto importante in 120 paesi con circa 55 milioni di persone che usano Tecnogym tutti i giorni in quasi 100.000 fitness e health sport centers e siamo stati impegnati socialmente e siamo impegnati socialmente perché abbiamo divulgato il wellness nel mondo dalla nostra nascita. Oggi abbiamo una focalizzazione, abbiamo da sempre una focalizzazione sul servizio, sul successo dei nostri clienti operatori, siamo ossessionati per supportare i nostri partner, operatori, fitness centers, residential, hospitality, health centers, sports centers, per il loro successo, attraverso la consegna della migliore esperienza di training experience nelle varie discipline, per le varie passioni, per i consumatori e siamo ossessionati nel raggiungere il più alto successo per l'operatore in termini di ritorno all'investimento. Tecnogym è la sola e unica azienda al mondo che ha un ecosistema completo da contenuti, abbiamo training session online e on demand, software applicazioni, sia business to business che business to consumer, servizi e soprattutto smart equipment in tutte le categorie. Abbiamo circa 400 brevetti importanti con un investimento in ricerca e sviluppo molto forte. Per questa ragione siamo positivi per il futuro e quindi mi fa piacere questa intervista per poter dare ai nostri partner una visione positiva del settore, una prospettiva assolutamente di crescita e di sviluppo per supportare la salute, la prevenzione e la performance delle persone. Qual è il trend di cambiamento su come le persone si allenano oggi rispetto al periodo della pandemia e a prima della pandemia? La pandemia non ha fatto altro che accelerare un processo di trasformazione già in essere che è quello di abbinare all'allenamento, all'esperienza di training experience nelle varie discipline, un supporto attraverso il digitale, i contenuti online e on demand e dare la possibilità agli operatori di connettere la propria comunità ai propri servizi e garantire la migliore qualità e performance dei servizi come risultati per il benessere, la salute e lo sport dei nostri consumatori. Il trend è quello dell'ibrido, cioè nel senso che non solo in palestra, non solo nel fitness center ma anche a casa, non solo a casa come durante la pandemia ma anche in outdoor. Quindi il wellness on the go, il wellness anytime, anywhere e il digital è l'enabler per poter rendere accessibile il servizio, il supporto al consumatore in viaggio, in vacanza, a casa, nel tempo libero, al lavoro. Technology copre l'intero ecosistema, noi siamo abbiamo creduto nel software, nello sviluppo del software dal 1996, circa 30 anni fa, a Seattle quando abbiamo fondato la My Wellness Open Platform, software che è un CRM, una Customer Relationship Management in grado di aumentare la traction, la retention e la secondary spending per i nostri partner operatori. Quindi il trend è quello di rendere nomadica appunto l'esperienza wellness. State avvertendo voi di Technogym l'aumento, la crescita del trend dell'allenamento forza? Sì, noi abbiamo sempre creduto nella forza. Technogym è nata come Isotonic Line e Strength, prima con il Selector Eyes, poi con le Plate Loaded, poi con i Free Weight, poi con il Functional Fitness. Quindi la storia di 40 anni di Technogym è nello Strength. Functional Fitness, poi abbiamo anche una parte molto importante, Cardio, ma sappiamo tutti che lo Strength è una nuova, come dire, è una soluzione migliorare le capacità a livello di composizione corporea attraverso la massa magra, attraverso quindi la muscolazione del corpo, di essere anche avvantaggiati poi non solo per la funzionalità del corpo, per l'anti-invecchiamento del corpo e anche e soprattutto per il dimagrimento, perché aumentando la massa magra attraverso la forza il metabolismo migliora sotto il profilo del consumo calorico durante le 24 ore del giorno. Quindi non più solo Cardio, come è stato negli ultimi dieci anni, che è stato dominante, ma un grande ritorno sulla forza sia per i giovani, che sono stati i primi a ritornare nei club alla riapertura post-Covid, ma anche per gli anziani, ma anche per le donne. E quindi ancora una volta è un approccio ibrido, non è solo Cardio o solo forza, ma è un'integrazione in una personalizzazione d'allenamento a seconda dei bisogni del consumatore. Raccontaci Nelio brevemente come Tecnogym integra l'esperienza di allenamento in palestra con quella fuori dalla palestra e a questo proposito cosa pensi degli operatori americani? Potrebbero migliorare l'aspetto della tecnologia all'interno della loro offerta? Ma l'Europe, noi siamo una brand globale, presente in 120 paesi e in tutti i paesi abbiamo un'organizzazione che permette un approccio ibrido, business to business, business to business to consumer. Quindi diamo ai nostri operatori partner la possibilità di servire, di offrire la training experience anche a casa dei loro clienti. Per noi è una cosa normale perché è così da ormai trent'anni. Abbiamo puntato sempre all'innovazione, siamo stati i primi a fare l'hard speed control 40 anni fa col sistema telemetrico, siamo stati i primi aver fatto l'internet of things 15 anni fa e tante altre innovazioni come il primo cloud software nel 2012. Quindi se prendiamo tutte le milestone di Tecnogym sono tipicamente di una società europea, lifestyle, che non vede solo il vertical, la bike o lo step o il treadmill, come abbiamo visto in questi 40 anni caratterizzare le società americane verticali specializzate sulla macchina. Noi siamo sempre stati orizzontali fin dalla nostra nascita e come azienda europea poi siamo diventati la società che ha la gamma di prodotto più ampio, la soluzione ecosistema 360 gradi, native e quindi per noi è normale essere Mercedes, BMW o piuttosto che essere Porsche o essere Mercedes. Tipicamente in America le società del nostro settore sono state più GM, Chrysler, più Ford, cioè più vertical, machine, car. Ecco noi siamo stati più lifestyle, noi siamo una Tecnogym lifestyle company e quindi questa è una grossa differenza fra il settore automotive europeo rispetto a quello americano, piuttosto che il settore della Gymtech Technology europeo rispetto a quello americano. Quindi il mercato americano è molto grande e privilegia il verticale però poi facendo chara picking, prendendo un po' di tutto dal mercato e facendo dei club un po' fruit salad con un approccio come dire non seamless, frictionless e non integrato, all'inizio era un vantaggio. Oggi è un grande problema perché con il digital, la digital transformation con la seamless integrated no friction experience naturalmente chi ha fatto un chara picking prendendo un po' di tutto e creando all'interno del club una fruit salad non è ovviamente un vantaggio per garantire la migliore consumer experience per il consumatore. Quindi è proprio molto differente l'approccio lifestyle europeo, made in Italy, con l'Italian design, con la European technology, con un approccio di branding e di di community building di un brand importante che possa essere un valore aggiunto per il nostro partner. Quindi l'intangible di Technology oggi è molto più importante del tangible per costruire una community insieme e raggiungere un successo insieme con il trust fra technology, exercise technology e il retail facility manager del nostro partner. Quindi io credo che l'Europa abbia un grande vantaggio in questo momento e noi siamo negli Stati Uniti focalizzati per aiutare e per creare e supportare questa trasformazione del mercato americano per creare un altro livello, per creare un nuovo livello di lifestyle a livello di premium e nell'home a livello di luxury living. Qual è il tuo punto di vista sul boutique fitness segment? Qual è il ruolo di tecnogym in questo mercato? Noi abbiamo dei format come il boot camp, high intensity training, interval training boot camp, abbiamo running classes, cycling, roving. Noi crediamo nelle boutique, crediamo nell'athletic, skill athletic boutique con un format di sport performance. Noi crediamo al shopping shop e quindi a un approccio anche di variety. Noi crediamo nella variety e quindi dare la possibilità al consumatore grazie a Technogym diverse training experience nel nostro club 4.0 come solution e cross il digital from attraction to retention, lifestyle management e lifestyle management e dare la possibilità ai nostri partner di fare una innovazione nel business model. Quindi creare delle nuove revenue stream grazie al Technogym My Wellness CRM open platform. Tu Nerio, come continui a innovare e a mantenere Technogym all'avanguardia del settore e della tecnologia? Ma noi investiamo tanto nella ricerca e sviluppo e quindi ci chiamiamo Technogym e siamo una innovation company DNA driven. Grazie a tutti. Grazie a tutti a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti per parlare italiano, ma le rispazioni sono molto, molto importanti. E preferisco di share con voi la reale risposta e il reale contenere. I am very, very positive. I believe in the wellness opportunity and I'm sure that we have a lot of opportunity for the future. Let's move for a better world.